In queste primarie abbiamo avuto una campagna elettorale durissima con attacchi personali di cui parlavamo anche prima, ingiustificati, ingiusti. Adesso ho fatto le mie denunzie e così sono più sereno perché la verità venga fuori, infatti non ci sono ragioni, quindi riprendo con forza questo ruolo, ma soprattutto in senso costruttivo perché si tratta adesso di rilanciare il partito, si tratta di rilanciare la coalizione e di predisporla nel modo più armonioso, nel modo più incisivo a battere la destra e a vincere le elezioni regionali che poi sono il vero nostro obiettivo. La prima considerazione è il risultato straordinario della partecipazione dei pugliesi. In un tempo in cui abbiamo visto le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria con una partecipazione bassissima ad una elezione vera e propria, quella delle regionali, e vedere nello stesso giorno altre primarie che hanno avuto un numero di partecipanti molto più basso, constatare che 140 mila pugliesi sono andati alle urne è una grande soddisfazione ed è il segno che questo strumento delle primarie è sentito ed è apprezzato dai cittadini. E poi il risultato è un risultato con pochi commenti da fare. Michele Emiliano ha dimostrato di essere il candidato, ma anche il leader del centro-sinistra, perché con tre candidati superare di gran lunga il 50% è un risultato che rafforza la coalizione. Perché? Perché io sono convinto che se il risultato fosse stato al di sotto del 50% ci sarebbero state fibrillazioni, ci sarebbero state richieste di eventuali ballottaggi. Invece io penso che questo abbia dato e dia un contributo importantissimo all'unità della coalizione che adesso ha davanti a sé i passi che si devono fare prima delle elezioni. Partiamo da quello che è avvenuto poche ore prima delle primarie. Vendola con una dichiarazione abbastanza forte aveva detto che il centro-sinistra era morto. Poi c'è stata la riappacificazione il giorno prima e ieri il popolo delle primarie comunque ha risposto con un ottimo risultato. Insomma, si è ricomposto un pochettino il quadro del centro-sinistra pugliese? Sicuramente si è ricomposto. Le prime dichiarazioni erano state dichiarazioni a caldo dovute ad una questione politica che però è sul tavolo della coalizione. Emiliano aveva detto con chiarezza che la questione dell'allargamento della coalizione all'Udc sarebbe stata affrontata da tutti i partiti che la compongono. Era soltanto un impegno che aveva assunto con l'Udc di proporre questo allargamento. Ma è tutta una questione che sarà affrontata senza nessuna polemica perché noi riteniamo che il bene della coalizione sia il bene più importante in questo momento. Lei personalmente è a favore di questo allargamento della coalizione ai centristi? Sì, io personalmente sì. Non è un partito di destra. È un partito di centro che più volte ha aiutato il governo regionale, che ancora governa la Puglia, ha aiutato. Diciamo che ha votato a favore dei provvedimenti proposti dalla giunta a vendola. E quindi non vedo perché se c'è questa richiesta noi si debba essere così chiusi. Ovviamente bisogna verificare la convergenza sui programmi, sui metodi, ma una volta che questo c'è non ci devono essere posizioni pregiudiziali. Tant'è vero che noi abbiamo detto un no netto a NCD, che è un partito di destra e che con noi ha poco a che spartire.